Ciao a tutti ragazzi, vi volevo dire che aprirò un concorso per i 300 iscritti, vi ringrazio tantissimo e questo concorso consiste in mettere mi piace a questo video, scrivere 5 commenti a testa con uno hashtag vorrei tanto vincere la pubblicizzazione e appunto chi vincerà un video dedica, una pubblicizzazione e la saluterò nel prossimo video. Comunque per vincere dovete iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, condividerlo su Instagram, Facebook e qualunque social avete e praticamente non si copie di Giorgia perché tutti quanti possono fare un concorso e non copie nessuno insomma. Comunque stavo dicendo e quindi mi raccomando spero che una di voi come dire, vi do una buona fortuna a tutti e io resterò con un sito e ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi raccomando iniziate a scrivere 5 commenti a testa, non ogni giorno, solo 5 e basta. Ci vediamo al prossimo video e grazie ancora per i 300 iscritti.